Il volley Pratola 78 si aggiudica lo scontro diretto di alta classifica battendo in casa la Gagliotti ricambi Giulianova per 3-0 con parziali di 25-23, 25-14 e 25-16 nella sfida valida per la quinta giornata del campionato interregionale femminile di Serie C. Gara mai messa in discussione anche nel primo set in vantaggio per 18-10 e chiuso 25-23. Le ragazze del coach Emilio Di Bacco hanno ottenuto un pronto riscatto dopo le precedenti due partite non giocate al massimo dei livelli che hanno fatto registrare la sconfitta casalinga per 3-0 contro l'Edas Torrevecchia e la vittoria sofferta a penne per 3-2. Il successo permette al volley Pratola 78 di agganciare proprio le Giuliesi al terzo posto in classifica. Nel prossimo turno di domenica 24 novembre le ragazze pratolane saranno impegnate nel derby sul campo del Cus L'Aquila e sarà un altro scontro diretto con le Aquilane al secondo posto in classifica e avanti di un punto. Grazie. 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 Grazie.